Musica Ben trovati all'appuntamento con Detto il Consiglio, il Consiglio settimanale che vi porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana, come è il nostro solito, scegliamo tre argomenti da affrontare insieme, sono tre momenti molto interessanti, in attesa appunto della prima seduta d'aula vogliamo appunto condividere con voi questi momenti e vediamo nel sommario quali sono i temi, parleremo del gonfalone d'argento per la fine della carriera a Giorgio Chiellini e poi si parla del premio del Corre Comunicatori Toscani 2023 ai corrispondenti di guerra ai giornalisti e poi protagonista del Rinascimento Toscano, Luca Signorelli, un convegno dedicato all'artista in Palazzo del Pegaso. Il primo argomento ci porta al di fuori dalla sede del Consiglio regionale della Toscana in via Cavour a Firenze, andiamo direttamente a Livorno perché il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha consegnato al gonfalone d'argento la più alta onoreficenza dell'Assemblea legislativa toscana a Giorgio Chiellini nella sala delle cerimonie del Comune di Livorno a fare gli onori di casa al sindaco della città, la veronica Luca Salvetti. Giorgio Chiellini viene premiato con il gonfalone d'argento dopo aver annunciato martedì il 12 dicembre il ritiro dal calcio giocato chiedendo negli Stati Uniti con i Los Angeles Football Club una carriera lunga e ricca di trofei. Giorgio Chiellini è un esempio, è un modello fuori e in campo, è stato il capitano della nostra nazionale, è stato, ha iniziato a giocare a Livorno, poi a Firenze e infine per tanti anni nella Juventus, è un esempio per tante ragazze e tanti ragazzi che si avvicinano allo sport, è stato un grande campione che ha portato il nome della Toscana in alto in Italia e nel mondo e alla fine di una carriera così importante, direi unica, con la Coppa alzata a Wembley e noi abbiamo voluto dargli questo riconoscimento per ringraziarlo e per chiedegli di continuare a portare in alto il nome della Toscana nel mondo. Il suo è un esempio positivo, un ragazzo che si è fatto nei campi di periferia, che ha deciso di continuare a studiare con una laurea in Business Administration, sono certo che porterà tutto questo anche fuori dal campo come manager sportivo perché poi alla fine l'esperienza in campo ma anche quella fuori dal campo è molto molto importante. I ragazzi e le ragazze lo hanno a modello ed esempio, un po' mancherà nel calcio italiano e nel calcio mondiale. Con i suoi piedi ruvidi ma il cuore gentile perdiamo uno dei più grandi professionisti, difensori che la storia italiana abbia mai avuto ma sono certo avremo ancora un grande uomo che si metterà a disposizione nel nostro sport. Io sono sempre stato tanto orgoglioso di essere toscano e quindi è un premio che fa tanto piacere. Mi sento di aver comunque portato la mia toscanità sempre in giro con me in tutto il mondo in questi anni. Ho avuto la fortuna anche di comunque vivere tanto in Toscana, non a fine vent'anni a Livorno ma anche dopo con Firenze, la nazionale, con tanti amici e colleghi toscani che ho avuto in catera e quindi ricevere questo premio da parte della regione è sicuramente un onore e un piacere e spero di rendere orgogliosa questa regione anche in futuro. Io penso che poi in tutte le sfaccettature di noi toscani che ci reputiamo siamo tanto diversi in realtà nel resto dell'Italia, siamo molto riconoscibili, c'è un'eccellenza in tanti settori, siamo diretti, siamo veri, siamo tosti e questo credo che sia una cosa che ci viene riconosciuta sicuramente in tutta Italia e poi chi conosce anche un po' la nostra nazione nel resto del mondo. Poi abbiamo avuto anche un bel gruppo con Buffon Barzagli solo non recente ma anche con tanti altri poi in nazionale quindi sicuramente è un vanto essere toscano, l'ho sempre portato con orgoglio e ora andando anche all'estero ho capito quanto le persone amano poi la Toscana e in America sono innamorati follemente di questa regione insomma è ancora più bello sentirsi dire da fuori. Noi avevamo a suo tempo omaggiato Giorgio Chiellini subito dopo i campionati europei, la vittoria lui come capitano, poi l'abbiamo ospitato di recente a visitare la nostra mostra sul Leonardo e poi da lì è nata l'opportunità che il Presidente del Consiglio della Regione Mazzeo ha costruito e noi più che volentieri abbiamo deciso di mettere a disposizione i nostri ambienti per una consegna che è di ambito regionale e che dà lustro naturalmente anche alla città di Livorno perché Giorgio poi è cresciuto qua, è cresciuto nel Livorno 9, ha giocato nel Livorno contribuendo a una scalata ai vertici del calcio italiano, poi ha fatto la sua luminosa carriera ricordando sempre la sua città, tornando sempre qui e facendo anche tante cose belle per realtà della nostra Livorno, quindi direi che lo scenario è quello giusto per vederlo ricevere un premio come questo. Sono sei i giornalisti di pace inviati in zone di guerra, vincitori del premio comunicatori toscani 2023 indetto dal Corecom Toscano. Alfredo Bosco, Lucia Goracci, Gianmarco Sicuro, Gabriella Simoni, Elena Testi e Fabio Tonacci. La cerimonia di conferimento del riconoscimento si è svolta presso la Sala degli Affreschi al secondo piano del Palazzo del Pegaso nel corso dell'iniziativa. È stato premiato anche il vincitore del bando per la miglior tesi di laurea magistrale in comunicazione discussa in un ateneo toscano nel 2022. Il premio è stato assegnato a Damiano Chema dell'Università di Firenze. Consentitemi di ringraziare il Corecom, il suo presidente Meacci, per aver scelto come comunicatori dell'anno toscano i nostri giornalisti toscani inviati di guerra. Svolgono un lavoro unico, riescono a raccontarci quanto accade in territori lontano da noi in cui la violenza sta nella vita di ogni giorno. Attraverso le loro parole riescono a costruire spazi di verità che noi dobbiamo saper cogliere. Ogni guerra provoca e porta con sé violenza, angherie, morti e loro attraverso le loro parole, attraverso i loro articoli provano a raccontarci la loro verità su quanto accade in questi territori così lontano da noi. Bisogna uscire attraverso la documentazione come fanno loro giorno per giorno dei fatti e come ha detto anche proprio Papa Francesco recentemente c'è un tema proprio di dare comunicazione a partire dai fatti, dalla verità dei fatti e loro fanno questo lavoro importante e per noi è anche un riconoscimento a dei toscani che appunto sono legati dalla nostra regione e per noi è un momento anche di gratitudine per un lavoro così importante e prezioso. È sempre in funzione H24 la propaganda di entrambi i lati, di entrambi le parti in conflitto quindi diventa davvero complicato poi stabilire con esattezza quello che succede perché questo è una costante in ogni guerra. Le due parti in causa tendono o a minimizzare o a esagerare una cosa quindi a me è successo per esempio in Ucraina di andare al seguito di notizie che erano state fatte filtrare, notizie ufficiali dal governo ucraino di una fossa comune con 150 persone dentro, ucraini uccisi che si volevano essere uccisi dai russi e anche torturati. Quando poi sono andato nel villaggio dove era successo questa cosa c'erano 150 morti ma non c'era nessuna fossa comune, non c'erano state torture ma questo perché? Perché poi le due parti tendono a esasperare quello che è già esasperato, a esagerare quello che è già esagerato. Etica, la voglia di andare a vedere davvero, di non cedere ai personalismi, di essere testimoni e non protagonisti di non scambiare soprattutto chi fa televisione lo schermo per una platea dove far vedere chi si è quanto si è coraggiosi, quanto si è rischiato. Ricordarsi sempre che noi siamo delle persone che passiamo in una guerra, che abbiamo il dovere morale di raccontare quello che succede per chi non ha scelta e per chi da lì non può moversi. E quindi insistere con tanta testardaggine, che è la parola che oggi abbiamo usato di più, per andare a vedere lì dove non vogliono che noi andiamo a vedere. C'è sempre qualcosa in una guerra che le potenze non vogliono che noi vediamo, c'è questa mania di intrupparci e farci vedere quello che loro vogliono, noi dobbiamo cercare di andare a vedere quello che gli altri non vogliono farci vedere. La mia tesi prova a portare uno sguardo interdisciplinare su quella pratica di appropriazione della musica a parte degli attori politici che è diventata una tradizione nel corso degli anni. Quindi quell'uso in campagna elettorale di elementi della cultura pop e in particolare della musica, della popular music, da parte di attori politici per riposizionarsi, per darsi oltre che un volto una colonna sonora per il pubblico. Luca Signorelli, protagonista del Rinascimento in Toscana è il titolo del convegno che si è tenuto a Palazzo del Pegaso per celebrare il maestro cortonese a 500 anni dalla sua scomparsa. Il convegno si è svolto a conclusione della mostra Signorelli 500, maestro Luca da Cortona, pittore di luce e poesia che si è tenuta al museo dell'Accademia Etrusca della città di Cortona, il curatore scientifico è stato Tom Harry dell'Università di Kent, uno tra i massimi esponenti, esperti proprio nel mondo dell'artista. Ho fortemente voluto che si celebrasse in consiglio regionale questo momento dedicato proprio alla figura di Luca Signorelli. Questo perché a Cortona si è svolta una mostra straordinaria di altissimo livello scientifico con un curatore di primaria grandezza, Tom Harry e con dei numeri che hanno lasciato il segno, 36 mila visitatori. Considerate un 3,6% in più per la Val di Chiana di presenza rispetto al 2022 che pure era stato pre-Covid un periodo quanto mai importante, quindi consideriamo un più 24% 2019-2022. Siamo riusciti con questa mostra a far conoscere Cortona ancora di più al mondo ed è particolarmente importante che questo lavoro che si è fatto negli anni, io ricordo aver dato un importante contributo all'ideazione di questa mostra fin dal 2019 e mostrando la vicinanza della regione toscana, siamo riusciti proprio a celebrare nel modo migliore Luca Signorelli ed era importante che si svolgesse anche qui, presso il cuore del Palazzo del Pegaso, che è un momento dedicato alla celebrazione dei grandi artisti. Siamo qua anche per rappresentare quello che ha fatto il Comitato Nazionale sulla mostra, del quale sono onorato di essere il Presidente e di aver legato una grande squadra, dalla regione toscana al Comune, al Ministero, abbiamo ottenuto una mostra molto importante grazie al nostro Museo Mike, quindi alla mostra che è stata preparata ed allestita all'interno dello stesso, con 36 mila ingressi, grande successo internazionale e anche grazie al Diocesano, al Museo Locale della Diocesi, perché vanta opere importanti sul Signorelli. Chiaramente la mostra non finirà a conclusione dell'allestimento del Mike, ma proseguirà con una serie di itinerari e quindi siamo qua per rappresentare gli stessi. I cinque itinerari, che privilegiano ovviamente Cortona, ma privilegiano anche la Valdichiana a Retina, la zona di Firenze, Prato e Fiesole, fino ad arrivare a Volterra, con anche attenzione da parte dell'amministrazione nel costruire relazioni con i Comuni, con Anci, in modo che tutti si sentissero coinvolti nel far sì che la promozione di Luca Signorelli alla fine diventi quasi un itinerario, per noi esiste già un itinerario signorelliano, almeno sul cuore. Vediamo se poi riusciremo a dargli anche effettivamente vita. Questo senz'altro è stato il portato sul quale si è speso di più e che in questo momento sta restituendo anche comunque una buona risposta, perché sappiamo, in parte li abbiamo promossi noi, ma comunque che gli itinerari che sono stati in qualche modo individuati e segnalati hanno avuto un buon riscontro sia nella fase estiva, ma anche nel periodo immediatamente a ridosso della fine della mostra. Quindi speriamo che su questo si possa proseguire. Quindi da una parte una grande attenzione che finalmente la mostra ha ridato su un artista, per certi aspetti a volte un po' dimenticato e che invece noi abbiamo rilanciato come non chiusura della seconda parte, diciamo, della storia dell'arte come ne faceva Vasari, ma piuttosto come apripista della fase più alta, quella che poi è finita con Raffaello e con Michelangelo. Quindi un'attenzione sicuramente sulla parte pittorica di questo artista che meritava di essere rivisto e ripreso e ristudiato e contemporaneamente però un'apertura verso tutto quello che di signorelli i nostri territori conservano. Ed è anche l'ultimo argomento che abbiamo trattato in questo nostro incontro. Tra sette giorni saremo ancora insieme. Per tutte le informazioni e delle lucidazioni vi ricordo il sito www.inconsiglio.it. Vi aspetto come sempre qua, tra sette giorni, dentro il Consiglio. Grazie a tutti.